Già pronta l'Atletica Futura in binomio con la Toscana Atletica per le finali nazionali della categoria allievi. L'appuntamento è inizio ottobre, l'essere però già tra le migliori 12 società italiane di categoria per il secondo anno consecutivo è un vanto per il presidente Meini. Aspetta un finale di stagione scoppiettante, quello che comunque diciamo un po' i fiore all'occhiello sarà la finale dei campionati italiani con la squadra allievi in Toscana Atletica Futura. Finale Oro e diciamo le prime 12 società nazionali che vanno a contendersi il titolo e comunque noi già molto felici di essere a Bressanone per i campionati italiani anche perché come unica squadra toscana a rappresentare la categoria allievi. Ancora più importante dunque il risultato assunto dopo il binomio con la Toscana Atletica. Questo consorzio di società che si sono associate per fare le gare su pista ci ha dato ragione perché ci sta creando tante soddisfazioni e comunque anche ai nostri ragazzi che hanno avuto anche tra l'altro in recente convocazioni rappresentativa nazionale come Reghi Vieri che comunque ha fatto un minimo per i campionati europei e questo è già una grossa soddisfazione.